il principe william e harry hanno prestato abiti alla mostra royal style in the making in memoria della loro madre la principessa diana ma ora il titolo di sar di harry è stato rimoso il principe harry è stato privato del suo titolo di sar alla mostra che celebra la vita di sua madre la principessa diana viene dopo che il palazzo ha giurato che non avrebbe mai più usato il titolo reale il titolo di harry sua altezza reale è stato rimosso da un cartellone durante l'evento a kensington palace le parole accanto all'abito da sposa di diana allo spettacolo ora recitano prestazione di sua altezza reale il duca di cambridge e il duca di sussex una settimana dopo che l'errore amministrativo è stato attirato per la prima volta all'attenzione dei funzionari incluso il titolo il duca di sussex non è più accreditato harry e il fratello il principe william hanno prestato alla mostra royal style in the making l'abito da sposa della loro madre da mostrare i suoi titoli sono stati anche rimossi da altri oggetti che ha prestato alla mostra punto i dettagli sall'abito con gonna color pesca di diana indossato sulla strada per la luna di miele disegnato da belville sasun erano anche in mostra con sua altezza reale prima del suo nome in precedenza il royal collection trust sosteneva che l'errore sarebbe stato modificato per riflettere il nuovo status del principe in base all'accordo che ha visto harry 36 anni e sua moglie megan markle lasciare il regno unito nel 2020 non avrebbero usato i titoli quando sarebbero partiti per gli stati uniti tuttavia è stato deciso che lo avrebbero mantenuto la coppia ha annunciato che avrebbe lavorato per diventare finanziariamente indipendente quando la magic sit è stata annunciata l'anno scorso oggi un parente anonimo di megan ha affermato che non parlerà mai più con la sua famiglia a causa del divario nella classe sociale ora tra lei e la sua famiglia l'insider senza nome crede che sia improbabile che parlino di nuovo ma ha aggiunto che la famiglia era felice per il duca e la duchessa del sussex